ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio provare con voi un test psicologico utilizzando soltanto cinque carte cinque carte che vado appunto adesso a disporre qui sul tavolo potreste pensare che sono cinque carte completamente casuali o forse non lo sono ad esempio qui in posizione centrale c'è appunto un asso un asso rosso oppure qui abbiamo un'unica carta nera su cinque ed io a questo punto vi chiedo di pensare ad una carta tra le cinque che vedete appunto sul tavolo fatto bene ora se tra queste carte tra queste cinque carte voi in questo momento state pensando esattamente a questa carta questa carta che è il 4 di cuori vuol dire che sono riuscito ad influenzare le vostre scelte con le mie parole e vi chiedo di farmelo appunto sapere nei commenti se il video vi è piaciuto mettete un bel like e per supportarmi vi chiedo di iscrivervi al mio canale youtube e di seguirmi sui vari social facebook instagram e anche sul canale telegram con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao